il 22 ottobre 2021 il ministero delle industrie pesanti di nuova deli india ha emesso l'ormai secondo emendamento al automobile wheelroom component quality control order 2020 allora questo annuncio dice solo che le ruote per i veicoli da importare in india devono ora oltre alla certificazione a is richiesta in precedenza anche essere certificati con bis se lei è un fabbricante di ruote o un importatore di veicoli era certamente al corrente di questo annuncio dopo tutto inizialmente si era detto che le ruote avrebbero dovuto avere il marchio bis cominciando il 20 settembre 2021 altrimenti non sarebbero passate attraverso la dogana indiana né da sole né sul veicolo dato che la certificazione bis delle ruote implica test in india e anche un'ispezione in fabbrica da parte del produttore questo era già un po calcolato all'epoca e anche il tutto è stato ulteriormente complicato ovviamente dalla crisi corona che ha reso impossibili i viaggi internazionali in particolare per i revisori della bis a causa di questo vincolo temporale l'annuncio del 21 settembre 2020 è stato modificato la prima volta il 28 maggio 2021 nel senso che l'obbligo di certificazione per le ruote non sarebbe più entrato in effetto il 20 settembre 2021 ma solo il 22 marzo 2022 cioè mezzo anno dopo allora probabilmente sotto grande pressione da parte dell'industria automobilistica e certamente in vista dell'ulteriore ritardo nelle date di ispezione a causa dell'attuale crisi corona il ministero alla fine di ottobre ha ancora esteso la scadenza per la certificazione obbligatoria di altri sei mesi cioè le ruote non devono essere marcate con il logo bis fino al 21 settembre 2022 per poter passare attraverso la dogana indiana quindi questa è già una buona notizia per tutti i produttori di ruote indipendentemente da ciò dato che la bis vuole sempre così tanto tempo per organizzare un'ispezione immagino comunque che la bis potrebbe anche non aver finito di controllare tutti i produttori che avevano fatte fatto domanda di certificazione molto tempo fa entro il 21 marzo 2022 quindi questo era l'unico modo logico per evitare ulteriori ritardi e colli di bottiglia nella fornitura e anche questo secondo emendamento all'ordinanza sui componenti dei cerchioni non è interessante solo per i produttori di ruote ma anche per gli importatori di veicoli finiti come esattamente bene il terzo paragrafo del primo articolo dell'annuncio completo di settembre 2020 include tre esenzioni in base alle quali la certificazione non sarebbe richiesta o almeno semplificata la prima eccezione è abbastanza logica le ruote destinate a esportazione fuori dall'india ovviamente non hanno bisogno di certificazione per il mercato indiano quindi quelle sono fuori la terza eccezione riguarda le ruote importate in india solo a scopo di ricerca queste due eccezioni sono rimaste ma ora la seconda eccezione è stata modificata l'annuncio originale del 21 settembre 2020 diceva che se il numero di veicoli che usavano le ruote non superava i 250 in un periodo di sei mesi allora il requisito del test di prodotto in india veniva sospeso nel processo di certificazione questo significava che se in un periodo di sei mesi venivano importate solo 1250 ruote dovevano comunque essere certificate ma non testate in india beh questa eccezione non era così interessante è vero significava effettivamente che si potevano importare 2500 ruote all'anno senza che questi modelli dovessero essere testati anche in india e 2500 è forse un numero interessante per molti produttori ma alla fine lo sforzo di analisi del prodotto in india è solo una piccola parte della certificazione complessiva quindi questa eccezione non ha portato quasi nessun vantaggio finanziario o procedurale inoltre nessuna essenzione aiutava gli importatori di veicoli completi poiché dovevano passare attraverso la certificazione delle ruote anche per i loro veicoli completi quindi ora questo secondo paragrafo dell'annuncio originale è stato sostituito l'esenzione non si applica più al numero di ruote importati ogni sei mesi ma invece all'importazione di veicoli completi se importa veicoli interi dice questa attenzione non deve più far certificare separatamente le ruote dei veicoli quindi se importa veicoli interi ora c'è una cosa in meno di cui preoccuparsi comunque se interessato da questa notizia ma qualcosa non è del tutto chiaro non esiti a contattarci sul nostro sito web troverà sia il nostro numero di telefono che i relativi moduli di contatto bene con questo la saluto grazie mille per la sua attenzione stia bene